Ciao desgraciati, se possedete un iPhone o un iPad non potete farvi mancare l'ultimo dei cocai e la tempesta di Mazzine, ovvero El Bifido Game. Da un'idea del bifido, nasce El Bifido Game. Un zughetto, diremo, che ti terrà compagnia finché aspetti la filuvia, finché sei dal dottore col vezzotto di fianco che ti conta delle sue magagne, finché sei, diremo, in posta che aspetti che viene fuori il tuo numero. Insomma, un passatempo, diciamo, un riempitivo. Oh vecchio, col Bifido Game, oltre a smanettare finché ti sei al bar, ti puoi aiutare l'Aveo che si occupa dei bambini emopatici oncologici. Basta schizzare sul logo che cate all'inizio e che ti manda sul suo sito dove puoi fare una donazione facoltativa o donare il 5 per 1000, tirandoti giù il codice fiscale. Semplice come maiarsi una macina. E' bello però, tirandoti a maiare le macine, beare l'acqua, sgiviare i sassi e i scarponi e ti puoi condividere il punteggio anche su Facebook. Come ti diceva, sto zughetto è veramente una figata, per cui scaricalo e condividelo e se ti piace dicalo anche ai tuoi amici e se no fatti un piattino di cassitoi. Grazie per la visione!